Buongiorno, sono a Catania, vi registro dalla camera del BNB, come potete vedere siamo in pieno tema barocco siciliano, è un esperimento, vi porto con me in questo weekend, sono dovuta partire per motivi personali, mi sono appena svegliata, stavo cercando di truccarmi, quando mi è venuta una brillante idea di girare un mini vlog per farmi un po' compagnia, sono venuta giù, in fretta e furia ho dovuto organizzare il viaggio giovedì, ieri ho preso il volo da Genova, sono arrivata qui a Catania alle 6 del pomeriggio, cercando di piacere, motivi personali, però oggi sarò sola, vieni a girare la città e per sentirmi meno sola vi porto con me, troviamo questo esperimento. Dicevo, esco a fare colazione e ho visto che Catania, la famosa, aveva già tocchiata una costruccia via, come vedete la not-fit è quella del video molto breve del comodo. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 a tutti.